C'è coscienza nella materia? La materia è spirito, tutto è spirito, è tutto spirito, solo che quello dell'uomo è spirito intelligente. Rol in realtà non può essere ascritto allo spiritismo, anche se mentre denunciava come volgare lo spiritismo più comune, credeva in qualche cosa che chiamava spirito intelligente. Ogni cosa ha il proprio spirito, le cui caratteristiche stanno in rapporto alla funzione della cosa stessa. Quello dell'uomo però è uno spirito intelligente, tra virgolette, perché l'uomo sovrasta ed è in grado, per quanto lo riguarda, di regolare, se non di dominare, gli istinti che sospingono incessantemente tutto ciò che esiste e si forma. Parlava spesso dello spirito intelligente, devo dire la verità che le prime volte non riuscivo bene a capire, perché parlando di spirito è metterci a fianco di intelligente. Poi dopo tu entri e afferri, capisci e quindi diventa tutto facile e semplice. Parlava di una memoria akashica, cioè di un regno in cui rimane una traccia di tutte le azioni, le persone, le cose che sono esistite sulla Terra. Perché noi sappiamo che tutta la nostra scienza ci ha insegnato un processo, una legge, farmi dare, nulla si crea e nulla si distrugge. Quello che i nostri occhi vedono è una frazione infinitesima di quello che la realtà è di fatto. Gli strumenti che noi utilizziamo in astrofisica, per esempio, sono in grado di farci vedere una finestra della realtà molto più ampia, perché per esempio con questi riusciamo a vedere nei raggi X, nei raggi gamma, nell'infrarosso, nell'ultravioletto, nelle onde radio. Noi come osservatori non riusciamo a vedere queste cose. Ci sono cose che non vediamo, ma che possiamo dedurre teoricamente con l'equazione della fisica teorica. Ciò che si riesce a percepire dalla nostra vita non è che una minima parte della realtà. Il mistero dell'esistenza di un al di là, per quanto fitto possa essere, non è del tutto inissondabile, perché ci sono dimensioni diverse, modi d'essere e eventi estranei attraverso i quali lo spirito immortale snoda e rende percepibile la sua presenza. Questa prerogativa dell'uomo è sublime e tale la riconosce del preciso istante che egli la percepisce. All'inizio degli anni 30, lavora in banca solamente per altri due anni. Decide quindi di dedicarsi al commercio di oggetti antichi. La figura di Napoleone gli sarà strettamente legata per tutta la vita. Ci sono dei fatti innegabili, per esempio sua madre era molto preoccupata perché lui non parlava da piccolo, è arrivato a due anni senza mai dire una parola. La prima parola che ha detto era Napoleone. Un giorno lui era a Parigi, anni 30, e camminava per una strada. Improvvisamente si è sentito come attratto verso un palazzo che aveva di fronte. E' entrato dentro, ha parlato con il portinaio dicendo ma qui voi sotto qua avete delle cantine, sì sì ci sono delle cantine, delle cantine che sono diciamo così senza pavimento che c'è la terra, sì sì mi può portare giù. E allora lo ha accompagnato, questo qui lo guardava, chi è questo qua è un pazzo no? Lo accompagnava giù eccetera. E lui ha cominciato a camminare in un certo momento si è fermato. Ha detto, lei ha una vanga, sì vada a prenderla. E dice scavi qui, scava e ha trovato questo gusto di Napoleone. I fenomeni paranormali come la precognizione, la telepatia e soprattutto la visione a distanza possono essere spiegati dalla fisica quantistica, non solo ma sono stati misurati in laboratorio. Un esempio molto eclatante è quello per esempio del scienziato americano Dean Redding che separando due persone in due stanze differenti e diciamo stimolando una di queste persone con una lampada, un flash, cosa succedeva? Succedeva che questa persona aveva quella zona del cervello diciamo evidenziata ma la stessa evidenziazione del cervello avveniva simultaneamente nell'altra persona anche se non era stimolata dalla luce della lampadina. Quindi questo dimostra l'esistenza di una sincronicità a livello telepatico, reale, dimostra l'esistenza della telepatia anche se ancora non abbiamo un modello fisico che possa spiegare in maniera autoconsistente questo. Rol si impegna in campo civile, artistico, umanitario e scientifico. Conosce Einstein, Picasso, D'Annunzio, Cocteau, Krishnamurti, De Gaulle, Mussolini, Pio XII. Anche Hitler lo vuole conoscere e invia i suoi a cercarlo. Il duce venne a sapere che c'era un capitano degli alpini, Gustavo Rol, che andava in giro a dire delle cose che erano un po' contro a quello che Mussolini voleva che si dicesse sul fascismo, sul nazismo. Cioè in quell'epoca la Germania era vittoriosa su tutti i fronti, con la Germania e l'Italia. Beh Rol andava in giro a dire che la guerra era perduta. E lui ha piccato la mano sul suo petto e ha detto non vi sarò fatto alcun male, dite quello che pensate. E io ho detto, duce, per me la guerra è perduta. E il duce, Rol, verrà allontanato nella primavera del 1945. Il duce batte un pugno sul tavolo, si alzò in piedi e lo congiudò severamente. Dopo l'8 settembre 1943, Rol mette in gioco i suoi poteri per salvare molte persone condannate alla fucilazione dai nazi fascisti. Esiste un documento firmato dal sindaco del paese San Secondo, qui in Rol, che dimostra come lui è riuscito a salvare diversi partigiani che erano stati condannati a morte. Questi ragazzi erano stati scoperti in possesso di armi. Allora Rol affrontò il generale tedesco e gli disse, lei sta prendendo un abbaglio. E il generale gli rispose, come fa ad essere così sicuro? E Rol disse, sono così sicuro di questa cosa come sono sicuro di ciò che lei possiede nel cassetto della sua scrivania ad Abburgo. E allora arrivavo a leggere le lettere che loro ottenevano del cassetto a Graz, a Düsseldorf. In cambio otteneva la vita di un dei partigiani. Tu quando eri di fronte a Rol eri come nudo. Beh, Gustavo era una persona, guardandola si percepiva all'infinito. I suoi occhi erano degli occhi immensi. D'altra parte lui, sai, usava gli occhi perché era uomo nel corpo, ma lui penetrava dentro la tua essenza, la tua anima. C'è una cosa alla quale avevo assistito e che è stata la più impressionante per me. Era il 1949. Stavamo attraversando la hall dell'albergo con mio padre e il signor Rol, parlando del più e del meno. E poi di colpo il signor Rol si è fermato all'improvviso e ha detto, sento odore di bruciato qui. Sì, sento odore di bruciato. Un odore terribile. Guarda a destra, non c'era nessuno e a sinistra c'era una coppia seduta. Si avvicina a questa coppia e sente ancora più odore di bruciato. Allora domanda mio padre, ma chi sono quelle persone? Erano Merle Oberon con il Conte Cini. Senta, me le presenti perché è necessario che io gli parli. Che cosa farete in questi giorni? Allora il Conte Cini dice, domani io prendo il mio aereo per andare a Venezia per un consiglio di amministrazione. Porto con me il signor Sella e Merle. Ah, non ci andate, non ci andate. Sento qualcosa che non va affatto bene. E poi questo odore di bruciato è inquietante. Non voglio che voi partiate. Allora Merle Oberon dice, io non parto. E allora Cini, impressionato, ha detto, quantomeno provo ad andare in vagone letto. Il vagone letto era completo. Allora ha detto, bisogna che io ci vada in ogni caso. E così l'indomani mattina sono partiti dal piccolo aeroporto di La Bocca, dove aveva il suo piccolo aereo personale. Il Conte Cini monta con il suo pilota e dice, voi non venite? No, 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 no. E sono decollati. Hanno fatto un giro per dire buongiorno. E poi quando stavano per prendere la rotta, l'aereo esplosero. No, 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 no. Riesce a sfidare le calamità alla sorte avversa? Le mie ruole. Mi viene di prendere quelle che incombrono gli altri. Allora agisco. A volte vince. Sotto quali impulsi lei agisce? Per i che mi dettano le circostanze. Mi viene di trovarmi improvvisamente impegnato in un senso infinito di disponibilità. Rol acquista a Torino un bellissimo alloggio al Valentino, in via Silvio Pellico. La sua casa nel corso del secolo diventa meta privilegiata di tanti personaggi famosi. John Kennedy, nel suo unico viaggio in Italia da presidente, viene appositamente a Torino per incontrarlo. Poi Giovanni Agnelli, Vittorio Valletta, Cesare Romiti, Federico Fellini, che diventa suo grande amico, Marcello Mastroianni, Nino Rota, Zeffirelli, Streler. E Nino Rota compose sul suo pianoforte la musica del famoso film Il Padrino. Valentina Cortese, John Cage, Vittorio Gassman e oltre ad essere amici, scriveranno anche ampiamente su di lui nel corso degli anni, Piti Grilli, Dino Buzzati, Guido Ceronetti e tanti, tanti altri. Nei suoi numerosi viaggi ha occasione di conoscere anche Padre Pio, alcuni presidenti della Repubblica Italiana, l'imperatore d'Etiopia Haile Salassie, la regina Elisabetta II e riceve dal presidente Reagan, in segno di ringraziamento, un telegramma per avere contribuito alla liberazione del generale americano James Dozier. Quando lui ci invitava a casa sua, ci dava l'appuntamento preciso, alle 9 e un quarto precise tutti lì, e ci si trovava sotto casa sua sul marciapiede di fronte, all'angolo tra via Pellico e Corso Massimo d'Azeglio. E ci si trovava tutti lì col batticuore. E andavo sempre con una certa emozione. Varcata quella soglia, si entrava su una dimensione meravigliosa. All'inizio mi sembrava di essere Alice nel paese delle meraviglie. E lì come, non so, sollevata da terra. E quel rituale di varcare la soglia è una cosa che io ogni tanto sogno ancora. Rimanemmo lì fino alle 2 oltre di notte e accadero delle cose incredibili. Perché Roll era riverito dai grandi e dai potenti di tutti i campi a Torino? E perché i suoi esperimenti parapsicologici suscitavano simpatia per le sue doti umane di onestà e di disinteresse e indubbiamente davano anche dei risultati assolutamente spettacolari. Gli esperimenti avevano due funzioni. La prima, la fondamentale, che era lo scopo per cui Gustavo faceva gli esperimenti, era quella di fare, riflettere le persone, sull'esistenza di un'altra dimensione superiore. Secondo la loro capacità di comprensione e la loro capacità di apertura, le persone che vedevano gli esperimenti potevano, facendosi delle domande, arrivare a cedere all'idea che esisteva una dimensione energetica, una dimensione divina, una dimensione spirituale. Ciascuno arrivava alle conclusioni che voleva, ma in ogni modo Gustavo attraverso i suoi esperimenti portava le persone a riflettere. Iniziava spesso gli esperimenti con le carte. E questo perché il numero, il colore, il disegno della carta hanno un significato facilmente comprensibile. Io voglio prendere da sopra e da sopra. Quante le vuole? Allora la seconda carta dovrebbe essere 10. Quanto? Era la forica e la vediamo tutti. Cambiava completamente una carta scelta dal soggetto e tenuta in mano dallo stesso. Carl Jung, il grande psicologo analitico, e Wolfgang Pauli, grande fisico quantistico premio Nobel, unirono le loro competenze in maniera interdisciplinare per cercare di spiegare il mistero delle sincronicità. Sincronicità sono degli eventi che avvengono in maniera sincronica tra uno stato della mente, uno stato d'animo della coscienza, e un evento esterno. Vedete quindi, la carta si forma nel momento che lui la individua? Ci fa pensare che dietro si cieli una realtà misteriosa che ci vuole insegnare sulla vera natura dell'universo e che, a quanto sembra, proprio per l'aspetto sincronico, si comporta esattamente come le particelle quantistiche, quando comunicano in maniera non locale l'una con l'altra. Un pensiero e un evento sono perfettamente sincronici tra di loro. Quindi deve esserci una legge fisica dietro tutto questo. Io con questo dimostro che esiste un nesso comune e costante fra tutte le cose avvenute che avvengono e avvengono. Tutte le cose si mantengono indipendenti e nello stesso tempo dipendenti. Roller è un'eccezione assoluta. Perché dalle sue possibilità veniva fuori una gamma di fenomeni paralomali assolutamente incredibile. Quasi senza limiti. Mi guarda e mi fa sì, sì. Hai una bellissima aura. Sono contento di averti conosciuta. Sì, ragazza mia di corsa dal medico, eh. Lui vedeva tutto. Non si è capito che cosa sia successo, perché non l'hanno ancora capito. Un infarto misteriosissimo mi ha tranciato parte del midollo spinale. Gli capitava nei negozi per la strada. Venga qui signora, venga qui lei. Ha bisogno di essere vista immediatamente da un chirurgo. Ha qualcosa di brutta la mammella. Non sapevamo che cosa ci avrebbe fatto il grande vecchio. E in quale momento. Poteva essere nell'ascensore. Poteva essere in casa sua. Si è parlato del fatto che la stagione era così che c'erano delle castagne per terra. Gustavo ha detto castagne e all'istante una pioggia di castagne sono arrivate nella camera. Ma c'erano delle centinaia per terra. Mi aiuta a infilare il cappotto. Di colpo mi giro e vedo un nano con le sembianze di Rol. Lui è andato nell'altra camera attraverso il muro. Entro sull'ascensore. Quel momento Rol prende le sembianze di un gigante enorme. I pennelli che muovevano da soli. E io gustavo paura se ci sarà mica il diavolo qua dentro. Perché erano veramente più mani che dipingevano. Devo dire che mi fanno anche un po' impressione. E queste cose quindi non ne voglio sapere tanto di più. Quello che so è che mentre noi chiacchieravamo il vecchio camminava e scivolava lungo il muro. Come era potuto succedere questo? Non me lo so assolutamente spiegare. Però mi ricordo che è accaduto. Con Gustavo ero talmente abituato a considerare il paranormale come normale che non c'era più niente che mi stupiva. Avrei potuto vedere un elefante volare che trovavo che era assolutamente normale. Non è che sia meraviglioso l'esperimento. Per la possibilità di giocare. La possibilità di poter sapere che l'impossibile sono una verità. No, non esiste. No, non esiste. Ho cercato di mantenere quella lucidità, quell'equidistanza che mi permette di mantenere il senso dello stupore nei confronti di ciò che avviene e l'apertura mentale per capire che può avvenire qualcosa di meraviglioso a cui noi non siamo preparati. Il suo compiere prodigi e l'accogliere le migliaia di richieste di aiuto avvenivano sempre sull'onda dell'istinto. Non poteva agire mai a comando, ma solo secondo un impulso improvviso. Roll lo definiva un ordine ignoto. Perché non poteva mai fare nulla a comando. Roll amava definirsi la grondaia che convoglia l'acqua che cade sul tetto.